Ciao, questo è un esperimento di un mini robot a due ruote, per adesso è tutto assieme, è basato su Arduino, c'è un L293D che gestisce i motori, c'è un display a OLED e c'è il non-chack per comandarlo. Alimentazione da 9V per Arduino, da 4,8V per i motori. Due motori, questo qua è un telaio già preconfezionato, diciamo, su cui ho adattato la scheda di Arduino. C'è una cosa interessante, è il visore OLED che ho trovato su eBay e su cui mostro delle informazioni relative alla posizione del joystick qui. Quindi ci sono il joystick sul grafico a destra, a sinistra scusate per voi, e l'accelerometro sul grafico a destra. C'è una barretta, se vedete qui al centro, azzurra, che si alza e si abbassa e quello è l'accelerometro della 6Z, che era difficile da gestire, da far vedere. C'è i due pulsanti e così via. Insomma, proviamo a vedere se questo aggeggio funziona. Vado, eh? Vado in avanti, c'è una leggera... i motori non sono perfettamente equivalenti. gira su se stesso, da un lato, dall'altro, e vado all'indietro, e in avanti. Grazie.